Le urla, poi un toffo e il corpo di un uomo ancora ammanettato esanime sul marciapiede. Sono le immagini shock vissute ieri sera in via Farini, a due passe dalla stazione Termini. Un tunisino di 45 anni, stato di fermo per una presunta violenza sessuale, si è gettato dal terzo piano del commissariato di polizia viminale. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, con un precedente penale specifico, era ammanettato e vigilato dagli agenti vicino a una finestra. Avrebbe quindi distratto il controllo chiedendo un bicchiere d'acqua, poi improvvisamente ha cominciato a correre nel corridoio dirigendosi verso una finestra. La persiana sarebbe stata chiusa, ma è riuscita a sfondarla lanciandosi nel vuoto. Il volo di diversi metri non ha lasciato scampo al nordafricano. Alcuni negozianti di zona hanno visto il corpo finire sul marciapiede vicino ai ponteggi, hanno poi raccontato di avere anche sentito delle grida prima dello schianto al suolo. In terra, pochi metri dall'ingresso del commissariato non sono rimasti i vetri. Il via vai degli agenti di polizia intervenuti per il lieve ha attirato però l'attenzione di passanti e curiosi. In pochi minuti un'ambulanza è arrivata sul posto, ma la corsa è stata inutile. L'uomo sarebbe morto infatti sul colpo. La violenza sessuale di cui il Tunisi non era accusato sarebbe avvenuta due giorni fa in via Bissolati. La vittima che non aveva denunciato, una ragazza connazionale che lavorava in un albergo di zona. Sull'accaduto ora la procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta.